ciao a tutti straghetti e straghette benvenuti in questo nuovo video paranormale è venuto ancora una volta il momento di parlare di un argomento che può far correre un brivido lungo la schiena e l'argomento di oggi so che vi interessa perché ogni volta sembrate accoglierlo con fervore infatti parliamo di ouija board e in particolare di esperienze di persone che l'hanno utilizzata l'esperienza che vi racconterò vengono da un forum online che è read it sono scritte in inglese ed ovviamente se mi vedrete guardare in basso è perché sto leggendo e traducendo contemporaneamente non sono ovviamente una traduttrice professionista quindi lo faccio la per la se dico qualcosa di strano non fateci troppo caso ecco la prima esperienza raccontata da uno degli utenti di reddit quando ero al liceo spesso giocavo con la ouija board insieme ad una mia amica andavamo insieme in vecchie chiese o nella foresta e cercavamo di scoprire chi potevamo contattare una notte ci recammo in un vecchio cimitero legato ai tempi della schiavitù e contattammo alcuni spiriti ma non successe niente di particolare e alla fine decidemmo di richiudere tutto e di tornare a casa torniamo a casa della mia amica ad un certo punto lei ebbe l'impressione che dovessimo riprendere la ouija board e che dovessimo riprovare tirammo tutto fuori e cominciamo a rifare le solite domande c'è qualcuno qui sì qual è il tuo nome jack e poi a questo punto cominciai a vedere che sul viso della mia amica c'era una strana espressione molto velocemente lei disse goodbye e chiuse la board e cominciò a piangere in maniera inconsolabile ero completamente confuso andammo al piano di sotto e le diede un bicchiere d'acqua lei riuscì a smettere di piangere e dopo essere rimasta seduta in silenzio per un lungo minuto alla fine sospirò e disse penso che dovremmo tentare ancora una volta io ha consentì cautamente e le ricordai che potevamo smettere in ogni momento se si spaventava torniamo al piano di sopra tirammo fuori ancora una volta la ouija board lei prese un respiro profondo e cercò di calmare la sua voce e chiese jack sei ancora qui la risposta fu sì lei domandò se questa è la persona alla quale sto pensando per favore dammi un indizio che sei davvero tu ed io ti riconoscerò la plancetta si mosse sui numeri 1 9 7 7 lei tirò letteralmente il fiato e quindi domandò se ci fosse un messaggio per noi la plancetta si mosse ancora una volta e molto lentamente con ogni lettera ma alla fine venne fuori la parola credi in dio rabbrividi io e lei ci guardammo dicemmo grazie e goodbye e corremmo al piano di sotto lì lei mi raccontò del suo ex fidanzato un certo jack che nel 1977 aveva cominciato con lei una band punk e mi raccontò anche di come fosse morto per un overdose tre anni prima non uso più la ouija board non ne ho più bisogno perché posso avvertire gli spiriti comunicare con loro eccetera un'altra esperienza questa breve però interessante un mio amico si agitava e si arrabbiava parecchio quando manifestavamo l'intenzione di giocare con la ouija board non voleva mai partecipare eppure ogni volta la ouija board gli faceva conoscere alcuni segreti oscuri sulla sua famiglia cose che alla fine si rivelavano sempre vere erano tutte storie terrificanti nessuno all'interno del gruppo di amici era un suo parente quindi nessuno poteva conoscere esattamente quello che gli veniva detto e tramite la ouija board gli venne anche rivelato come fosse morto suo nonno lui ovviamente non lo sapeva si sparò e venne scoperto dallo zio strana esperienza molto particolare sicuramente anche molto inquietante perché non deve essere una cosa piacevole magari non voler partecipare a una sessione di ouija board essere comunque presenti nella stanza e cominciare a ricevere anche contro la propria volontà una serie di informazioni insomma oscure un altro utente scrive una cosa che fa effettivamente riflettere anche questa molto breve dice non ho mai usato la ouija board non ho nessuna esperienza perché non sono abbastanza stupido da utilizzarla ci sono due possibilità una è che non funzioni la seconda possibilità è che mette in pericolo la tua anima quindi qual è il punto di usarla che ne pensate un'altra storia da un altro utente che racconta io ho sempre amato le ouija board e ne ho una collezione detto questo ho alcune storie da raccontare storia numero uno stavo utilizzando la ouija board una notte era piuttosto tardi ed ero a casa di un amico che viveva nel vicinato c'è un ruscello che scorre sul retro della sua proprietà e quando ci sono delle tempeste può gonfiarsi fino a diventare quasi della taglia di un fiume per questo motivo la città ha fatto installare degli allarmi contro gli allagamenti lungo tutto il ruscello allarmi che cominciano a suonare quando c'è un rischio imminente di allagamento era una notte senza nuvole e noi cominciamo a chiedere alla ouija board di darci delle prove che ci fosse davvero qualcuno qualche spirito insomma improvvisamente l'allarme contro l'allagamento cominciò a suonare e suonò per ben tre volte rispondendo alla nostra domanda non c'era pioggia non c'erano allagamenti il ruscello era semplicemente un piccolo ruscellino ho sentito soltanto un'altra volta nel corso della mia vita durante il corso della mia intera infanzia quello stesso allarme e avvenne durante delle piogge torrenziali quindi non c'era effettivamente motivo per cui questo allarme dovesse partire e forse era effettivamente partito in risposta alla loro domanda alla ouija board sempre durante la mia infanzia quando ancora andavo a scuola mi divertivo a giocare con la ouija board da solo nella mia stanza di notte conversavo con uno spirito che si chiamava cat e le lasciavo ogni notte delle piccole offerte era circa luna in una notte d'estate quando finì di parlare con cat e preparai una piccola ciotola con delle patatine la misi sul mio comò e la lasciai lì in modo che cat potesse prendere queste patatine se fosse stata affamata mi svegliai presto la mattina dopo avevo dormito davvero poco e scoprì che la ciotola con le patatine in realtà era completamente vuota sono una persona che si sveglia facilmente e nessuno era entrato nella mia stanza tra luna e le sei del mattino mentre stavo dormendo avete mai sentito parlare di persone che lasciano delle offerte ai fantasmi o cose del genere a me è capitato di sentirne parlare che ne pensate altra storia tre anni fa alcuni amici vennero in visita dall'europa era più o meno il periodo in cui l'uragano sandy stava per colpire e diversi voli venivano cancellati oppure anticipati in modo che le persone potessero andarsene prima i miei amici avevano prenotato i loro voli attraverso canali differenti ed erano pronti a partire lo stesso giorno lo stesso giorno in cui avrebbe colpito l'uragano sandy chiedemmo alla tavola uigi che cosa sarebbe successo e lei disse che stavamo parlando con un vecchio amico di mio padre che era morto pronunciò un nome che io non conoscevo e che uno dei miei amici che uno dei voli dei miei amici sarebbe partito prima del previsto mentre il volo dell'altro mio amico sarebbe stato ritardato di tre giorni la mattina seguente i miei amici chiamarono le loro compagnie aeree per avere più informazioni a proposito di quello che stava succedendo e vennero a sapere che effettivamente come aveva detto la uigi board un amico sarebbe stato in grado di andarsene prima mentre l'altro avrebbe dovuto aspettare perché il volo era stato spostato di tre giorni leggiamo ancora un'altra storia ho speso alcune stati in una vecchia canonica che si diceva fosse infestata dal fantasma di un cappellano che aveva vissuto lì molto tempo molto tempo prima e c'era anche il fantasma di un bambino che si diceva fosse annegato nei pressi della canonica la canonica era formata da un edificio principale e da alcune piccole case tutto intorno che in passato erano state utilizzate da serbi dai monaci dalle suore o da alcuni agricoltori attualmente queste case in realtà erano di alcune famiglie che le affittavano durante le vacanze estive in quel periodo oltre a essere in giro con mio fratello avevo fatto anche amicizia con diversi ragazzi che avevano dell'età comprese tra i 14 e 18 anni dato che avevamo sentito queste voci che dicevano che ci fossero delle infestazioni di fantasmi decidemmo di comunicare con loro tramite una Ouija board fatta in casa la prima sessione fu piuttosto noiosa facevamo alcune domande chi erano dove erano nati eccetera la parte interessante fu però che effettivamente tutte le informazioni che ricevemmo erano effettivamente accurate una delle ragazzine che facevano parte del mio gruppo di amici aveva da poco perso la nonna che era abituata a venire in vacanza in questo luogo e ci convince che potevamo provare a cercare di contattarla così nella sessione di board seguente quando chiedemmo chi fosse presente chiedemmo se ci fosse la sua nonna e la risposta fu sì chiedemmo anche se fosse vicina e lei rispose sì e quindi chiedemmo per un segno a questo punto stavamo sedendo al piano di sopra nell'edificio principale sopra una delle stanze che erano in affitto una piccola stanza con una singola finestra che era chiusa e due letti tutti noi stavamo guardando intorno spaventati aspettando che qualcosa succedesse dopo un breve periodo sentimmo il suono di qualcuno che stava salendo sulle scale qualcuno che indossasse delle suole di legno e circa a metà delle scale una voce roca cominciò a chiamare il nome di una ragazza alla fine i passi raggiunsero la stanza dove ci trovavamo e passarono oltre a questo punto eravamo tutti seduti in cerchio sul pavimento sei persone una ragazza seduta con le sue spalle alla porta e alla sua destra la nipote che aveva chiesto di poter parlare con la nonna e tutti aspettavamo ancora per qualcos'altro improvvisamente la ragazza seduta accanto alla porta cominciò a perventilare e delle lacrime riempirono i suoi occhi restammo tutti congelati dalla paura a questo punto non ho idea di quanto fosse trascorso ma dopo che questa ragazza aveva cominciato ad avere questo strano atteggiamento improvvisamente si fermò e la stessa cosa cominciò a farla la persona che era alla sua sinistra e andò avanti così fino a quando venire aggiunto anche io ebbi l'impressione che qualcuno mi stesse toccando le spalle e non era esattamente come un tocco fisico di un essere umano però c'era qualcosa non riuscivo a capire cosa che sembrava aver messo del peso sulle mie spalle ovviamente anche io mi congelai e iniziai a iperventilare perché la sensazione di avere qualcosa di sconosciuto che ti tocca era davvero sconcertante dopo aver percorso metà del cerchio di persone qualunque cosa ci stesse toccando improvvisamente si spostò direttamente sulla nipote che cominciò a iperventilare anche lei e cominciò a piangere e poi improvvisamente la porta si aprì tutti quanti saltammo agli angoli della stanza cercando di nasconderci fortunatamente all'epoca era presente uno dei parenti che era un medium e questa persona dichiarò che quello che stavamo facendo era sbagliato che mentre era al piano di sotto improvvisamente aveva avuto la sensazione proprio che ci fosse qualcosa di sbagliato e corse immediatamente da noi fu lei ad aiutarci a chiudere questa sessione con la wg board e non successe più niente eccetto per il fatto che eravamo tutti spaventati da morire e per questa volta streghetti e streghette mi fermo qui con queste esperienze con la wg board alcune terrificanti alcune stravaganti alcune particolari se conoscete o se vi sono capitate delle cose simili mi raccomando lasciatemi un commento qui sotto e fatemelo sapere io vi ringrazio per essere stati con me come al solito vi ricordo se vi va iscrivetevi condividete il video commentate mettete un mi piace eccetera eccetera noi ci vediamo la prossima volta venitemi a trovare anche su instagram lì mi trovate con il nome alra kairam lo sapete ormai grazie grazie ancora per essere stati con me e ciao grazie a tutti